Un nuovo altare e un nuovo ambone per la chiesa parrocchiale di Leffe, perché? Perché la chiesa parrocchiale di Leffe che è stata fatta nel 1720, è un ottimo, io parlo come leffese, sono orgoglioso, è un ottimo monumento e mancava praticamente le due parti più importanti della liturgia a seguito del concilio Vaticano II della riforma che è stata fatta, la messa della parola e la messa eucaristica. Noi qua a Leffe avevamo l'altare e l'ambone che erano veramente poveri, fatti di legno e fatti di metallo. Abbiamo voluto completare il tutto con il nobile materiale che è il marmo, che in effetti sono due blocchi unici, sia l'ambone sia l'altare, magari si può essere traditi dal fatto che ci siano due colori diversi, ma la parte lucida è quella più colorata e l'altra parte, praticamente il gruppo statuario, è sempre dello stesso materiale. Quindi è lo stesso blocco? Ecco, perfetto, lo stesso blocco, hai fatto bene a correggermi. Chi è intervenuto giustamente è l'artista, è uno dei due artisti, il Fidia Toffetti, qua alla mia sinistra invece c'ho il Michelangelo Toffetti che sono i due figli del compianto signor artista Mario Toffetti che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, ero un suo amico. Quest'opera, se non sbaglio, è stata concepita da vostro padre? I bozzetti sono stati fatti da lui. Lui ha fatto i bozzetti, avendo anche l'idea di fare queste due volute con questa scalinata di balaustra. Dopo noi abbiamo insieme sviluppato i modelli per le proporzioni e dopo abbiamo fatto il marmo, lo stesso blocco sia l'altare che l'ambone anche la mensa è tutto lo stesso blocco, quindi è notevole come... Un lavoro di quanto tempo? Beh, anni, allora se tu guardi, non so come viene calcolato, ogni giorno, vuoi sapere ogni giorno? Ogni giorno come un somaro, diciamo un anno, ecco. Però te devi calcolare che c'è il giorno e c'è l'altro giorno, non tutti i giorni sono uguali. Quindi allora tra il bozzetto, il capire come fare le proporzioni, tutti siamo un paio d'anni per... Ma è una cosa normale, non c'è da spaventarsi per questo. Spieghiamo anche il significato di queste opere. L'ambone rappresenta Gesù che professa la parola del Padre in mezzo alla gente e sta camminando, va incontro la gente per diffondere la parola. E la cosa particolare di questo ambone è che, essendo sospeso così, unico ovviamente, la parola prende ancora più valore, prende ancora più forza, perché è ancora più libera e ancora più determinata nel suo messaggio. Per quanto riguarda l'altare? Per quanto riguarda l'altare, che è la cena di Emmaus, che è collegata comunque con l'ambone, perché l'ambone è la strada che da Gerusalemme fa Gesù con questi due discepoli a Emmaus. Facendo la strada arrivano a Emmaus, si fermano per la cena e c'è la cena di Emmaus sull'altare. Lui spezza il pane e loro si accorgono, comunque si rendono conto che è Gesù. E in quel momento lui svanisce e allora si vede proprio quella cosa mistica di quella cosa. Però sono collegati. La stessa scena prima e dopo, quello il bello, la cosa particolare. Due momenti dello stesso passo evangelico. Dello stesso passo evangelico, tutti questi soggetti sono stati fatti in collaborazione col compianto maestro Mario Toffetti. È stata partecipata anche la moglie Caterina, la mamma dei due artisti, col prevosto Don Giuseppe Belotti di allora, che abbiamo portato avanti il discorso, e con Don Giuseppe Merlini abbiamo la gioia, la fortuna, di poter finalmente inaugurare queste due opere d'arte che verranno fatte dal Vescovo sabato prossimo alle ore 18 con la consacrazione della mensa eucaristica e la benedizione dell'ambor.